La neo insediata amministrazione comunale di Sala Consilina parte subito puntando a garantire una maggiore sicurezza per la comunità rappresentata ed in particolare in quest'estate 2024. Un'estate in cui il sindaco Domenico Cartolano, sul suggerimento del vice sindaco ed assessore al personale viabilità Bartolo Lettieri, vuole rendere più sicura attraverso un potenziamento della presenza degli agenti della Polizia Municipale sul territorio, ampliando l'orario in cui gli agenti presteranno servizio. Controllo del territorio garantito fino alle ore 22 e presenza straordinaria anche nei giorni festivi a partire dal 1 luglio e per tutta l'estate. Abbiamo deciso, ha commentato il primo cittadino cartolano, di estendere l'orario di servizio della Polizia Municipale per garantire maggiore sicurezza ai nostri cittadini durante i mesi estivi. La presenza prolungata degli agenti, continua, contribuirà a prevenire e gestire più efficacemente eventuali situazioni di emergenza, aumentando la tranquillità e la protezione della nostra comunità. Continueremo a lavorare per rendere Sala Consilina un luogo sempre più sicuro e vivibile per tutti. Una iniziativa a cui ha lavorato l'assessore Lettieri, che ha dunque voluto modificare gli orari delle turnazioni degli agenti per i prossimi tre mesi e dunque a partire dal lunedì prossimo e fino a settembre. Abbiamo deciso di allungare l'orario di presenza dei vigili urbani che, spiega Bartolo Lettieri, dalle ore 20 precedente orario del termine del servizio passerà ora alle ore 22, seppur si dovrà fare a meno di qualche unità. Per quanto concerne invece la presenza di agenti della Polizia Municipale nei giorni festivi, in precedenza a causa anche della carenza di organico, non poteva essere assicurata. Con la nuova turnazione estiva, fa sapere l'assessore Lettieri, si garantirà la presenza della Polizia Municipale anche nei giorni festivi, con due unità in servizio la mattina e due che seguiranno un turno pomeridiano dalle ore 18 alle ore 21. Una rimodulazione dunque, che come sottolineato dall'amministrazione comunale salese, garantirà una maggiore presenza degli agenti della Polizia Municipale sul territorio, al fine anche di tutelare i cittadini e garantire loro un'estate in sicurezza.